Gesù sceglie la sera nella quale si consuma la cena pasquale per annunciare la sua Pasqua. È giunto il momento del compimento che avrà inizio con il tradimento e la consegna nelle mani dei capi dei sacerdoti con i quali Giuda aveva contrattato. Il tradimento di Giuda sembra essere la causa dell'epilogo finale della storia di Gesù. La scelta dell'iscariota di consegnare il maestro al suo destino di morte è dettata dall'avidità e dalla cupiligia. Quante storie d'amore finiscono a causa di un tradimento e alla base c'è sempre la stessa ragione. Giuda non ha accolto nel tempo del suo discepolato l'occasione per maturare umanamente insieme con Gesù e assimilare la logica dell'amore. Era nella comunità ma per fare i suoi interessi. Ha sfruttato fino alla fine la situazione, fino al colpo grosso di vendere Gesù per trenta monete d'argento. Ma la storia della salvezza non è solo storia di amori umani impossibili o falliti, è la storia di Dio che ama l'uomo a partire dai suoi tradimenti. Il peccato non è la parola fine all'amore di Dio, ma è la conclusione drammatica dell'amore malato dell'uomo. Il peccato ha una forza distruttiva e autodistruttiva, ma colui che è venuto per i malati e non per i sani, nel momento in cui annuncia il tradimento, proclama anche la vittoria dell'amore sulla morte e sul peccato che la provoca. Il peccato ha delle conseguenze irreparabili e ciò che è scritto si compie, ma è anche vero che se credessimo veramente all'amore di Dio e ci arrendessimo adesso, gli permetteremo di farci rinascere dalle nostre macerie. Signore Gesù, vieni a fare Pasqua con me. Fai ancora Pasqua nelle case dove l'avidità e la cupidigia rubano spazio e tempo alla cura delle persone, dove il conflitto si consuma silenziosamente attraverso dispetti reciproci, dove la comunione è sostituita dalla competizione. La tua parola smascheri i miei pensieri segreti che preparano i tradimenti più infami. Donami la vergogna per i miei peccati, per la superficialità con cui tratto le persone come fossero pedine da muovere sulla scacchiera, per la mancanza di sensibilità nell'approcciarmi ai fratelli, per la poca disponibilità a rendermi partecipe dei loro problemi. Il tuo amore misericordioso mi ridia speranza di perdono quando i miei piccoli e grandi tradimenti mi gettano nella disperazione della colpa. Auguro a tutti una serena giornata e vi benedico di cuore.